Nonostante l'introduzione della legge contro il femminicidio che prevede pene più severe nei confronti di chi si rende responsabile di tali reati, nel 2013 in Italia ci sono state quattro vittime in più rispetto all'anno precedente. Donne uccise da mariti, fidanzati spasimanti, ma anche vittime di rapinatori o di uomini semplicemente violenti. In Ciociaria c'è un'associazione che da anni è al fianco di queste donne, è il Telefono Rosa. Il 25 di novembre è un'occasione per tracciare un bilancio dell'associazione. In gennaio 2012 fino a questa mattina le telefonate ne abbiamo ricevute il 2025, 26 con quella di questa mattina. E di queste 2026 ne abbiamo 1987 della provincia di Frosinone, 27 da Latina, poi ne abbiamo 7 dalla Sicilia e 5 dall'Abruzzo. Il 90% di queste telefonate sono casi avvenuti in famiglia, il luogo quello, il focolare domestico che dovrebbe essere il luogo più sicuro, invece si è rivelato il luogo dove avvengono maggiori casi di violenza. Che cosa vi chiedono queste donne? Quando arrivano da noi la prima cosa che chiedono è aiuto per i loro figli. La molla che fa scattare per il 90% dei casi è proprio la salvaguardia dei figli. Anche quest'anno il Telefono Rosa Sportello di Cecano ha eletto i suoi ambasciatori, coloro che si sono distinti per il loro interesse e il loro lavoro a tutela dei diritti delle donne. L'importante titolo di ambasciatore è stato conferito a Stefania Marrazzo, capo di gabinetto della questura di Frosinone, al Maggiore dei Carabinieri Pietro Di Miccoli, al senatore Maria Spilabotte, al consigliere regionale Daniela Bianchi, Manuela Maniziola, sindaco di Ceccano, a Maurizio Cerrone, assessore alle politiche sociali di Ceccano, Aldo Mattia, presidente col diretti Lazio, alla giornalista del Corriere della Sera Alessandra Rachi, a Loredana Falcone, scrittrice, a Laura Costantini, giornalista, alla cantante Mariella Nava, a Stefano Rodotà e Serena Dandini. Qual è il numero del Telefono Rosa? 0775 188 6011